e c'è la stile e vedono sul mio canale allora allora ci stiamo spericando dalle risate ciao ciao raggi ci stiamo spericando dalle risate allora vi ho lasciati con quel video che dovevo cercare di uccidere il granchio che io te lo avevo già ucciso aspetta l'ho ucciso il raggio ah no corri corri vabbè vabbè tanto abbiamo chiamato dice lasciamoci pure uccidere chi se ne frega no e vai mi ricordo che è craccato è cricciato quindi traghetto e traghetto mamma questo traghetto forza diventa verde nero quello che devi diventare ma via vabbè ma io uso il diamante che me ne frega ma io ti attacco pure se mi vedi che me ne frega ma che c'è la baglia d'oro sì c'è la baglia d'oro non so come l'ho presa ma va bene forza ma questo granchio è coglioni ragazzi è scemo c'è basta vedi qua lasciati uccidere scemo sei scemo c'è il granchio più scemo del mondo io qua io quasi sta fermo sta solo le botte sto granchio vabbè non lo posso mazza e basta mi sono già scocciato e noi siamo l'altro diamante vai vabbè ragazzi facciamo facciamo nel senso nel senso vero della parola uccidiamolo veramente guarda si è messo un po' a fare lo scemo e vabbè ci ha ucciso non dovevo fare lo scemo e vabbè il granchimento non dovevo fare lo scemo avrei dovuto ucciderlo subito cosa sì va bene mi interessa ma non mi interessa come ho detto vabbè mi sta andando in gioco questo divertimento andiamo qua vabbè su non compriamo niente di quello che ci riserve ciò più ore ne aspetto vabbè è partita la partita è partita la partita facciamo il check pack e nello spazio volare ok speriamo mi vedo congiare un mega al don ho fatto squadre che non posso farli fuori ah sì purtroppo mi sono spaventato perché c'era il baby lava io ho detto aiuto già sto al mostro di lava fortuna fevo la super memoria quindi dove sto andando a volte vabbè ragazzi a volte memoria a volte non ce l'ho comunque c'è una grande percentuale che si ha qui questo ragno il crank che sta qua e vabbè c'erano tutti con me però che cavolo si no ho sbagliato qui c'era la chitarra se neanche che ci faccio con la chitarra gli oggetti sono da prendere ma come cominciamo dal crank ho preso la mia ho preso la mia diversa ragazzi ho sbagliato vabbè può capitare che si sbaglia dovrei usare il GPS ma è troppo fatica sono piccolo l'ho detto allora vediamo se ci riesco ragnetto gigante ciccioso anzi mi sa che annaggia con sto ragno ragazzi con sto ragno mi sa che quello granchio servono pure più botte con quello verde non le servono tre boom vabbè volevo dare una bella botta così vabbè non era il momento però ci ho provato su tira vabbè io quello qua del più quello verde di 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 fai poi l'ho preso non so doveva se l'ho preso è parso di di non prenderlo scemo sto qua io eh sì vabbè ma questo è scemo forza tira eh non siamo stavolta la notte non siamo batman eh e attacco eh becca della stiamo morendo dai devo stare tutti diamanti non c'è scala pure il cibo arrivi e basta ok ci siamo poi siamo col secondo squalo cioè ammazzare un anche col secondo squalo scusi ah guarda giuda ma stava più basso madonna signore dove stai eh vado a fermi ma che cavolo di estorare basta non pronuncio più quel nome perché io vado a bordo e basta oh state fermo c'erò tu e lusi diamanti usato alziamoci un po vai tira 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 quanto sto aspettando tira tira forza sto grappio scemo forza e se è sciottato è sciottato signore dov'è ah forza signore attacchi è quello che le piace di più no uccidere i poveri squadri difesi è quello che le piace è come la nonna granny è sua parente per caso forza signore capito questo obisibile però è un branch alla vista non so comunque forza ci uccida ragazzi con sto crack con lo sconciatore di quelli ammazzati si muove cioè tu puoi pure restare qua però quello si muove è furbo vedete se mi sta tanto lontano quello se ne va ci sta meglio ma è impossibile attacca attacca e vabbè la capella è impossibile è un maledetto vai andiamo qua si giochiamo 50 anni e vabbè fuori ingrandisco 50 anni di caricamento vai super turbo 3 master 3000 atterraggio allora che dovremmo e vabbè io sono mi simile forza 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 più volante possiamo ragazzi più volante che possiamo allora qui c'ero prima ormai ho imparato ho imparato credo credo non si è mai non si è mai sicuro non si è mai troppo così allora se in teoria io prima ho sbagliato perché ho fatto questa strada adesso dovrei sbagliarmi spero ah che bello l'immunità le venusse sono anche mi dà anche l'immunità al fuoco funziona per tutti una cosa strana ma meglio così perché ragazzi ci ho messo quasi dieci minuti per uccidere un ragno e ci stiamo mettendo dietro ciccione ah quanto no Dio quanto ti detesto sei un ragno talmente è brutto che ti detesto sì ragazzi ormai per lui per me è un ragno non è più un ragno forza tira e no maledizione su un bolletto forza tira sto qua in alto tira 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 se coraccio tira una botta abbiamo spiegato la vita ma ce l'abbiamo data brappetti mangiati brappetti mangiati ok ripresa dove sei signor brappio ragno grosso cososo stiamo volando stiamo volando ci stiamo basso quindi attendi attendi attenzione tira tira aperto 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 forza signor raglie sira ma basta cos'è forza 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 e va bene ragazzi ho fatto con c'è stu coso eh tira c'è questo però c'è dai c'è zaccaniato ragazzi come è un gredragolo zaccaniato ma faccio visibile fa fregare non mi vedevo io stessa scusi potrebbe rifare quello che stava facendo vai no sono partito io in ritardo non ci vedo per la volta ragazzi per la volta che era andata bene sono io in ritardo niente ragazzi ce la possiamo fare non so sopra sto cracchio cracchio forza ce la vedete se è tre quarto non dira se sta in basso inizia ha fatti fuori cioè non è giusta questa cosa e no e stavolta non mi sto fermo e beh e la volta passa mi serve cimbo 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 mi sa non c'ho più diamanti sì ce l'ho craccato però pure ragazzi se è craccato il gioco non posso dirmi non sempre mi fa risuscitare perché il gioco dice basta un po' anche se hai diamanti finiti dov'è quella cosa giocante cracchio ecco 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 lo stadio qua vai vai ce l'abbiamo fatta non ci credo ci siamo riusciti ci siamo riusciti non me lo fa mangiare così oh ah bene non ci credo e vabbè ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta cioè ci abbiamo messo sono stato non è stato molto pratico ci ho messo 13 minuti per un granchio ma ce l'ho fatta alla fine vabbè ragazzi il video oggi si conclude qui nel prossimo video scriveteli sotto le commenti se volete che continuiamo a fare la serie di uccisioni di stracci di questi cranchi perché l'ultimo penso che sia il cranchio nero oppure blu c'è stanno diversi e noi ci vediamo nel prossimo video ciao bau